Quali sono i tipi di intervento? Quali sono gli interventi soggetti ad attività edilizia libera con o senza comunicazione e gli interventi soggetti a permesso di costruire? Possiamo dire che gli interventi soggetti a scia sono tutti i restanti. Quindi diciamo che l'intervento principale, anche se la legge regionale poi approfondisce un pochino la questione con delle eccezioni, però in generale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti a scia. Oltre a questi, anche se non esclusivamente questi, ci sono tutti gli interventi disciplinari dei piani attuativi, varianti non sostanziali ai permessi di costruire o a scia, questo l'avevamo già visto parlando dei permessi di costruire, opere pertinenziali fatte con strutture leggere e anche altri interventi previsti dalla legge regionale di cui adesso non ci soffermiamo. Allora, la scia deve essere presentata al SUAPE, come abbiamo visto anche i precedenti titoli abilitativi. Allora, la scia su che cosa si basa? Si basa fondamentalmente sull'assunzione di responsabilità da parte del progettista, per questo si chiama segnalazione certificata. La parola certificata sta proprio a segnalare questo, nel senso che il permesso di costruire è, diciamo così, subordinato al rilascio del permesso da parte dell'amministrazione comunale. Invece la segnalazione certificata di inizio attività, diciamo, si basa appunto sull'assunzione di responsabilità del progettista, che per interventi chiaramente minori rispetto a quelli del permesso di costruire, si assume la responsabilità che quello che viene presentato è conforme agli strumenti urbanistici e quindi si può procedere. Allora, quali sono gli elaborati che devono essere presentati con la scia? Allora, diciamo che fondamentalmente sono più o meno gli stessi del permesso di costruire. La differenza è che poi gli elaborati del permesso di costruire saranno soggetti, come dicevamo, diciamo così, a controllo, validazione da parte dell'amministrazione comunale. Invece il contenuto degli elaborati accompagnatori di una scia sono sotto la responsabilità del progettista. Allora, che cosa deve essere consegnato? Allora, sicuramente una dichiarazione del progettista che assevera la conformità a tutti gli strumenti urbanistici e a tutte le normative vigente. Gli elaborati richiesti, ricordo che questo è scritto nel regolamento edilizio, o regolamento per l'attività edilizia, eventuali altri documenti, l'attestazione del titolo di legittimazione, quindi del titolo fondamentalmente di proprietà o relativo, e la quantificazione, certificata ovviamente, degli oneri, dei contributi di costruzione e il versamento relativo quando questi sono, diciamo così, richiesti. Il SUAPE che cosa fa? Fondamentalmente verifica soltanto la completezza formale, importante questa parola, formale, della segnalazione. Quindi nel caso che la documentazione è incompleta, dichiara l'irricevibilità della domanda, diciamo così, della segnalazione. Altrimenti, nel momento in cui dà parere favorevole alla completezza formale della documentazione, la scia ha, diciamo così, già il suo effetto legale. Prima di questa dichiarazione è priva di effetti. Allora, che cosa va correlato anche alla scia? Va indicato subito chi è il direttore dei lavori. Quanto tempo dura la scia? Allora, la scia dura quattro anni dal momento in cui viene presentata. Quindi nel permesso di costruire abbiamo visto che il termine decorre dal momento del rilascio del permesso. La scia, non essendoci bisogno di nessun rilascio, ma soltanto appunto di questa segnalazione certificata del progettista, diciamo che ha validità immediata per quattro anni. Tutto quello che non viene realizzato nei quattro anni è soggetto alla presentazione di una nuova scia. La data affettiva di inizio lavori deve essere comunicata, questa volta, non dal proprietario, ma dal direttore dei lavori, che è stato indicato dal proprietario nella domanda. Quindi il dirigente o il responsabile della struttura comunale ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della domanda per riscontrare le condizioni necessarie, nel senso che può, entro questi 30 giorni, con un motivato provvedimento, dare il divieto di persecuzione delle attività in quanto possono essere considerate non conformi alla normativa. Quindi questo che cosa significa? Che chiaramente la responsabilità dell'intervento è del progettista che firma la segnalazione certificata inizio attività, ma l'amministrazione comunale può, quindi è importante questa parola, può, perché non è necessario o obbligatorio farlo, può verificare la completezza e la pertinenza di quanto richiesto, e entro 30 giorni può, diciamo così, bloccare l'effetto di validità di questa scia nel caso in cui lo reputa, non reputa la scia, non conforme alla normativa. Tutti i termini e gli estremi della scia sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere. Presso il cantiere ci sarà il cartello, appunto, come per tutti gli interventi edilizi, in cui c'è scritto il numero della scia, il protocollo, la data di inizio, la data di fine di validità della scia, chi è il direttore dei lavori e chi è l'impresa esecutrice.